Fermare il passante di mezzo. L'appello è rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona. I neoparlamentari Lucio Borgonzoni della Lega e Galeazzo Bignami di Forza Italia, insieme al leader bolognese del Movimento 5 Stelle Massimo Bugani, hanno chiesto a tutti i capigruppo in Parlamento di scrivere una lettera al Capo dello Stato per fermare l'ampliamento di tangenziale e autostrada. Forza Italia, Lega e 5 Stelle scriveranno questa lettera a tutti i capigruppo di Camera e Senato perché intervengono presso il Presidente della Repubblica Mattarella arrestando un processo che invece ha subito un'accelerazione sospetta da parte del governo uscente, delegittimato dalla gente e dalle urne, affinché appunto si sospenda il progetto del passante di mezzo e si valuta in altre soluzioni, anche tenendo conto dei forti problemi di tenuta sanitaria e ambientale che sono emersi dalla progettazione stessa. Sempre uniti, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia andranno anche al Ministero delle Infrastrutture a Roma, con loro anche fratelli d'Italia e liberi e uguali. Quello che dobbiamo riuscire a fare ora intanto è fermare l'avanzamento di quest'opera, avanzamento, qui c'è stata una palesa accelerata dopo le elezioni, per me è vergognosa perché è fatta comunque da persone che rappresentano un partito che è stato sonoramente bocciato, bocciato comunque anche nelle aree che costeggiano tutto il tracciato della tangenziale e dell'autostrada. Noi chiediamo che venga ripreso tutto in mano, che non parta la conferenza dei servizi. Fermare l'opera è anche una questione di salute. Noi chiediamo assolutamente, in maniera compatta come stiamo facendo da mesi, con l'80% delle forze politiche che rappresentano il nuovo Parlamento e una buona parte delle politiche che rappresentano la città di Bologna e di sospendere ogni operazione in attesa che ci sia un nuovo governo. Questa opera è completamente anacronistica, la regione si sta muovendo verso un nuovo registro dei tumori che anche questo potrebbe dare delle risposte importanti. Non si allargano le strade facendo passare 10 milioni di auto in più all'anno nel 2018. È una follia contro assolutamente il tempo che stiamo vivendo.